Io per qualche minuto ho sperato che ci fosse il corpo di ballo E questa ragazzi è la storia della musica Anni 90 Numero 1 in Italia Prodotta da Dignino Piparo Calea It's the current side No, 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 no Allo scoccare del dodicesimo rintocco L'ultimo del 2016 e il primo del 2017 Spumante panettone per tutti Per poi proseguire la serata con la musica del DJ Mauro Miclini di Radio DJ e Vincenzo Calea dei Typical Lo spettacolo è stato curato dall'associazione Timagora con la direzione artistica di Dario Melodia E rientra nel ricco cartellone natalizio promosso dall'amministrazione comunale Le manifestazioni dell'assessorato agli eventi retto da Rocco Dharma apriranno nel 2017 con un concerto benefico in favore dell'Unicef che si terrà questa sera alle 20.30 Sul palcoscenico del Teatro Eschi lo suonerà l'orchestra giovanile siciliana diretta dal maestro Raimondo Capizzi L'iniziativa è stata voluta dall'associazione Amici della Terra